Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è il Money Glitch, un'auto al minuto che è tornato a funzionare ragazzi, quindi ve lo ripropongo e vi rispiego più o meno come funziona ragazzi. Allora per fare questo Money Glitch dovete avere un amico che vi da una mano e che ha una LG Retro Custom, allora possibilmente l'auto del vostro amico deve avere la vostra stessa targa, io in questo caso avevo una LG Retro Custom che è quella gialla con la targa Tigri e l'ho passata alla mia ragazza e a questo punto abbiamo la stessa targa. In pratica ragazzi come vedete quest'auto non me la lascia mettere nella base operativa, però è chiaro, ovviamente non è mia. Quindi a questo punto ragazzi che cosa dobbiamo fare? Il solito vecchio glitch, quello che vi ho spiegato qualche minuto fa, insomma no, però un po' di tempo fa, una ventina di minuti fa, credo che sia uscito il video, più o meno giù di lì insomma. Bisogna fare quel glitch ragazzi, io adesso sto riposizionando l'auto nel mio bunker, nella mia base operativa scusate ragazzi, in maniera tale che sia piena. Quindi dobbiamo avere la base operativa piena, un amico che ci aiuta e nient'altro ragazzi, e molte faggio o LGRH8 da poter utilizzare per fare i cloni insomma. Quindi queste faggio e queste LGRH8 per fare i cloni le dovremo avere nella base operativa ragazzi. Quindi saranno quelle che andremo a impiegare per sostituire. A questo punto passiamo all'aiuto dell'amico. L'amico che cosa deve fare ragazzi? Vi deve spingere, vi deve spingere lontano. Come ho già detto nel glitch precedente, se avete la stessa base operativa, il vostro amico deve fare in modo di non far mai comparire la schermata di base operativa piena, della sua base operativa piena, quindi in quel caso deve tenere sempre il menu pad aperto, per non far comparire quella schermata. Ma questo solo se avete la stessa base operativa. Se avete base operative diverse, non fa nulla ragazzi. Allora, a questo punto io sono in schermata nera, la mia ragazza mi spinge via dalla base operativa e mi porta lontano. Allora ragazzi, come vi ho già spiegato in precedenza, il vostro amico che vi dà la macchina o che comunque vi sta aiutando deve scendere dall'auto prima di voi, o meglio, prima che voi vi suicidiate ragazzi. Perché alcune volte si bugga e quindi non vi farà mettere l'auto nella base operativa. In questo caso la mia ragazza è scesa dopo, però comunque sia, diciamo questo è un video vecchio e quindi voi vedete che funziona. Però ricordate sempre che il vostro amico dovrà scendere prima di voi dall'auto e non dovrà mai, dico mai, scendere dopo di voi dall'auto dopo che voi vi siete suicidati perché altrimenti si buggerà. Questo l'ho notato, diciamo, mentre facevo delle prove, come ho già detto prima in video. Quindi questo glitch funziona abbastanza bene, continua a funzionare abbastanza bene. Con questo glitch potete duplicare un'auto al minuto ragazzi, se trovate l'amico che vi dà una mano. Però comunque sul canale ci sono anche altri due glitch da fare da soli che è uno della duplicazione e uno degli appartamenti che è ancora funzionante. Quindi potete farla in tutta tranquillità ragazzi. Per tutti quelli che mi fanno la solita domanda del cavolo se l'auto l'amico la perde. No, l'auto l'amico non la perde ragazzi. All'auto gli rimane comunque all'amico. Scusate, questi giorni ragazzi c'è un po' di dislessia, nel senso che comunque non riesco a commentare i video, forse sarà il mal di gola, non lo so quello che cazzo è. Però spero di spiegarmi abbastanza bene, anche se ho la voce cavernosa, non si sa che voce ho. Però comunque credo di spiegarmi abbastanza bene quando parlo, credo che voi capiate. Detto questo ragazzi spero di essermi, come ho già detto, spiegato bene. Spero di avervi fatto capire bene il glitch come funziona, come sempre. Spero che il video vi sia piaciuto. lasciate un like, condividete il canale, aiutatemi ad arrivare molto più in alto, sia per me che per voi ragazzi. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.